Buongiorno a tutti signori, grazie di essere qui. Si apre oggi la sesta edizione di Planita, la mostra a mercato di piante spontanee e coltivate, la vita botaniche ed essenze esotiche che ormai organizziamo da diversi anni. Quest'anno è ancora più ricca degli anni precedenti, ci saranno sempre insieme alle piante esposte in vendita delle piccole mostre nella mostra, mostre fotografiche, spettacoli diatrali, spettacoli musicali, tre convegni separati e tutta una serie di eventi che ruotano attorno alla manifestazione principale in questi tre giorni. Bellissimo, un programma davvero fitto, ricco, complimenti, molto variegato e comincia oggi fino a domenica, in questo posto straordinario che è l'Orto Botanico, che mette insieme varie istituzioni, la direzione dell'Orto Botanico, il personale, l'Università Federico II, il Comune, altri enti, ma soprattutto gli espositori e quindi è un'occasione straordinaria anche di far conoscere questo luogo e queste bellezze a chi ancora non ha avuto la possibilità di farlo. Una bellissima manifestazione, un evento che si ripete ogni anno, è stupendo, una struttura molto pulita, molto curata, un bel servizio di serviglianza, l'ho fatto molto bene, quest'anno sarà meglio dell'altra volta, penso io, perché altri anni, ma quest'anno ho visto un viola all'occhiello, diciamo così. Non ci resta di visitare questa iniziativa straordinaria prima che riprende a piovere, l'Orto Botanico è bellissimo e quindi è un'occasione per visitarlo da parte nostra, fare i complimenti a chi organizza queste iniziative che staranno a quanto il fine settimana, quindi anche domani e dopo domani le previsioni dovrebbero essere di bel tempo e per noi è un motivo di grande orgoglio collaborare ad iniziative di questo tipo. Questa è un'eccellenza di Napoli e ci sono tanti napoletani che non conoscono.